Ma buongiorno Mosca, è così infatti i residenti di Mosca si sono svegliati stamattina a suon di sirene oggetti volanti e tanto tanto karma quando si dice poi no corsi e ricorsi storici infatti questo evento di oggi mi ricorda un po il 1940 a berlino quando iniziarono gli attacchi sulla città e l'uomo nell'alto castello capì la regola più semplice del mondo non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Purtroppo però ecco questi droni ucraini non sono piombati sul suo gabinetto stamattina ma invece hanno colpito la zona dell'aeroporto di Zhukovsky a sud est della città. Tutte queste icone che vi mostro in pieno territorio russo sono il risultato di un centinaio di droni ucraini che hanno colpito la Russia stanotte circa dieci ore fa. Sono stati colpiti poi anche l'aeroporto di Domedovo e lo sciame di droni ucraino ha interessato regioni come Smolensk, Bryansk, Lisebsk, Kaluga, Oriol e Tula. Ma comunque nelle stesse ore anche Kiev era sotto allarme aereo ma giustamente i residenti hanno fatto notare che loro ci sono abituati i moscoviti no. Comunque sono stati pubblicati moltissimi video dell'attacco odierno a Mosca. Quasi tutti vengono dall'area di Zhukovsky dove a est è presente un gruppo di edifici molto alti e un paio di questi infatti sono stati colpiti. Dagli articoli si dice che i droni sono stati deviati o colpiti dalla contraerea e così poi sono finiti sugli edifici per sbaglio. È difficile dirlo. Un'altra possibilità secondo me è che questi palazzi essendo molto alti si siano trovati semplicemente sul percorso programmato del drone per colpire l'aeroporto. Una cosa interessante da dire però è che dei due aeroporti Zhukovsky è anche un aeroporto militare ed è anche molto importante. Gli incendi e le esplosioni che si vedono nel video arrivano da quest'area dove di fatto c'è il deposito di aerei militari. Da Google Maps possiamo vedere che tutta l'area a nord sembra in tutto e per tutto un cimitero di aeroplani o rimessa per quello che a meno le mie conoscenze mi dicono essere una zona di recupero e cannibalizzazione degli aerei e dei pezzi, componenti, motori, per mantenere alcuni aerei in volo al discapito di altri. Il motivo è molto semplice e normale che si faccia così. Lo facciamo anche noi in Italia da sempre. Per esempio vi mostro nella mia zona c'è l'aeroporto di Galatina dove ci sono i MB339 che i vecchi modelli usciti ormai dalla loro ciclovita vengono cannibalizzati soprattutto perché i motori Rolls Royce non vengono più prodotti. Quindi è facile vedere in questi piazzali alcuni aerei senza le parti per darvi un'idea. E così avviene anche a Zhukovsky, a Mosca dove vediamo per esempio diversi Tupolev 160, i bombardieri che oggi sganciano i missili Kruis sull'Ucraina. Alcuni di questi si vede ma gli mancano delle parti. Poi c'è una marea di vecchie glorie dell'ex Unione Sovietica, MiG-23, MiG-31 e poi praticamente c'è tutta la flotta dei Su-27 sperimentali, i vari Su-35, Su-30, quelli con le ali Canard, con la spinta vettoriale, stanno tutti qui praticamente. Ci sono poi Tu-95 e fra l'altro c'è anche la brutta copia cafona e molto meno sicura del Concorde francese, il famoso Tupolev 144. Questo aereo era bello perché chiaramente si ispirava alle forme del Concorde ma comunque era terribile, pericolosissimo, rumorosissimo sotto ogni punto di vista. Ma comunque questo aeroporto storico è stato spesso usato anche per i test sui prototipi come ho appena anticipato. E infatti vediamo un oggetto molto insolito qui, come il MiG-144. Questo aereo è molto interessante, vi dedicherò certamente un video in futuro, anche perché ricordo che qualcuno me lo ha anche chiesto nei commenti. Poi però gli ucraini hanno iniziato a fare il bello e il cattivo tempo nella regione di Kursk e così non ho avuto tempo. Il MiG-144 voleva essere la versione cafona russa del loro caccia di quinta generazione, qualcosa con cui competere con l'Eurofighter europeo, per darvi un'idea, almeno nella loro testa. E sogniamolo anche di competere con l'F-22, vabbè. Comunque è stato pensato per avere una ridotta osservabilità radar, a partire dai materiali e dalle forme, e poi motori con la cosiddetta Super Cruise, più le stive interne per trasportare le armi e un'ottima manovrabilità grazie alle ali canard, in stile Eurofighter appunto. A guardarlo, parere mio personale, però gli manca una certa eleganza tipica del design russo. A parte questo, ha fatto solo un volo di test, uno solo, e poi non ne ha più fatti altri, a causa di problemi tecnici e il costo esagerato del progetto, che ne ha determinato la chiusura definitiva. Dopo il fallimento di questo progetto, comunque i russi decisero di portare avanti il Su-57, perché aveva meno pretese, in sostanza. Era più un aereo pensato per la difesa, da affiancare agli scudi missilistici, più che un aereo per l'attacco, come il MiG-144. Costava anche meno il Su-57, non aveva così grandi pretese da un punto di vista di invisibilità. E questo è quanto. Comunque è interessante notare quanto il J-20 cinese si sia ispirato proprio al MiG-144. Questa ispirazione non è un caso, ma anche questa è un'altra storia e ne parlerò in futuro. Comunque, perdonate la mia deviazione aeronautica e andiamo avanti con le notizie. La situazione al fronte è rimasta quasi invariata rispetto ai giorni precedenti. Nella regione del Donbass, comunque, i russi hanno ripreso a spingere, prendendo qualche centinaio di metri verso Pokrovsk, nei campi aperti. E anche qui, nella sacca più a sud-est, stanno provando a chiudere quest'area, spingendosi in particolare da due linee, da questa linea est e da nord. Ho visto alcuni video e report di analisti che parlano dicendo che le forze ucraine pare si stiano ritirando per evitare di essere intrappolate. È notizia di poche ore fa di una intensa azione dell'aviazione russa in tutta l'area, con bombardamenti su tutte le linee del fronte a sud e sud-est, in particolare nella zona di Vulenar è sempre qui, in direzione di Pokrovsk. Mentre non si segnalano cambiamenti nella zona di New York, Toresk, Chasilyar e Vojnchask, in tutte queste aree la situazione è rimasta praticamente invariata. Quello che possiamo dire in generale è che l'azione russa continua a concentrarsi verso Pokrovsk e Vulenar, segno che vogliono accaparrarsi più territorio possibile prima dell'arrivo dell'autunno. Non ho molte notizie invece per quanto riguarda la zona di Kursk, non ci sono aggiornamenti significativi tranne alcuni video di bombardamenti dei ponti improvvisati sul fiume Sein da parte dell'aviazione ucraina e del tiro dell'artiglieria. Però ecco, ci sono state delle dichiarazioni ufficiali da parte di Kiev dove emergono alcuni dettagli interessanti. Secondo loro il Cremlino semplicemente non sta mostrando particolare interesse a respingere gli invasori della regione di Kursk, con un atteggiamento difensivo volto solo a proteggere la linea stradale e la città di Kursk, molto più in là delle attuali posizioni ucraine. Al contempo, come ho detto poc'anzi però, sta concentrando tutti i suoi sforzi per accaparrarsi più territorio possibile nel Donbass. Le dichiarazioni di Kiev parlano di un buon risultato in termini di possibilità di negoziazioni future e scambio, e che la pressione sul fronte più a sud si è alleggerita come speravano. Ora, questo è difficile dirlo. Quello che posso dire io è che avendo visto tantissimi video di questi giorni troppi, che mostrano la fine a cui vanno incontro questi gruppi di soldati russi nel Donbass, la mia impressione è che i russi stanno soltanto dimostrando di non avere nessuna considerazione per la vita dei propri uomini, almeno. Non che prima ne avessero così tanta, ma ecco, da un mese a questa parte veramente, ai minimi termini, la considerazione della vita umana. Quindi c'è solo da capire fino a quando riusciranno a portare avanti questa politica di consumo delle risorse umane, prima che si scateni una rivolta di massa nelle file dell'esercito o finiscano gli uomini da mandare avanti, semplicemente. Senza poi considerare che anche conquistando territori non è che poi questi diventano tuoi di diritto. Dovrai poi preoccuparti di tenerteli anche e questo è tutto un altro discorso. Comunque, a proposito di rubare territori agli altri paesi, vi propongo giusto un paio di video e dichiarazioni da parte di Lavrov e Putin. Colgo l'occasione anche per rettificare un video di qualche giorno fa in cui ho preso una falsa dichiarazione di Lavrov in cui non ha realmente detto quelle cose, parlava di un tappeto rosso per Putin per potergli permettere di camminare fino a Kiev. Mentre la dichiarazione di oggi è riportata da tante fonti e ha detto questo, sentite un po'. Ci sono indizi che suggeriscono che dovremmo procedere con l'idea che la questione territoriale dovrà essere risolta in base alle realtà sul campo. Ma non si tratta di territori. Non abbiamo mai voluto la terra di qualcun altro. Volevamo semplicemente che le persone che sono parte integrante del mondo russo, la cultura, la lingua, la storia e la religione russe, fossero trattate umanamente. Come richiedono il diritto internazionale e numerose convenzioni sui diritti umani, comprese quelle sulle minoranze nazionali. E soprattutto, come richiesto dalla Carta delle Nazioni Unite, molte idee che circondano la formula di Zelensky di solito iniziano con la nozione che le ostilità devono cessare e il diritto internazionale deve essere rispettato, il che significa proteggere l'integrità territoriale dell'Ucraina. Capito? Quindi, da oltre due anni e mezzo che distruggono e invadono una nazione, in realtà loro volevano solo autoinvitarsi alla festa degli hippie pacifisti, qualcosa del genere, ma è magnifico, signori miei, davvero strepitoso. E poi così parlava Putin il 5 ottobre 2023. La crisi ucraina non è un conflitto territoriale, voglio sottolinearlo. La Russia è la nazione più grande e larga in termini territoriali di tutto il mondo. Noi non abbiamo interesse di conquistare o aggiungere altri territori, che ne abbiamo così tanti che dobbiamo ancora esplorare la Siberia e tutte le aree a est. Quindi questo non è un conflitto territoriale. Poi un anno dopo diceva, le nostre condizioni per eventuali negoziazioni sono molto semplici e si riducono a quanto segue. Le forze ucraine devono ritirarsi completamente dalla regione del Donetsk, Luhask, Kherson e Zaporizhia. Precisamente da tutto il territorio di queste regioni, definite dai loro confini amministrativi, quando sono entrate nei territori ucraini. È chiaro? Cioè sarebbe come dire che la Francia domani ci dicesse Italia. Abbiamo così tanto territorio che non sappiamo che farcene, ma comunque per parlare di pace con voi dovete sloggiare da Val d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia subito. Bello, no? La mia domanda a questo punto è, questi due personaggi lo sanno che le loro azioni e dichiarazioni resteranno per sempre nei libri di storia come il momento più basso, meschino e ridicolo della storia della Russia per i secoli a venire? Ma va bene, nel frattempo è appena partita l'esercitazione Ocean 2024, fonte del Ministero della Difesa russo. Questa esercitazione avrà luogo in diversi settori, nel Pacifico, nel Mare Artico, nel Mediterraneo, nel Caspio e Baltico, fino al 16 settembre. Si parla di 400 navi, sottomarini, 120 aeroplani ed elicotteri. Tolto l'aspetto positivo di far spendere ulteriori soldi e risorse alla Russia, per il resto non è una buona notizia, specialmente nell'ottica del mare del Giappone e del Pacifico in generale, dato che si prevede che questa esercitazione coinvolgerà anche la Marina Cinese. Detto questo, nei cieli del nord Europa il pattugliamento Nato continua, è per esempio un RC-135 tutta questa mattina ha pattugliato l'aria della flotta russa. Ora che finisco di scrivere questo articolo è proprio in fase di rientro in Inghilterra. Molto spesso ho parlato delle attività aeree Nato nei cieli europei, dell'importante ruolo di raccolta dei dati di intelligence anche per l'Ucraina, e anche nel moditoraggio delle attività sospette in Bielorussia e Russia. In questa animazione, per esempio, vediamo una sovrapposizione di questi voli tipici che si realizzano ogni giorno dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina ad oggi. Questa rappresentazione grafica ci dà un'idea del lavoro che viene fatto ogni giorno. Poi, per concludere, un paio di curiosità per gli amanti dei droni e del volo, anche RC radiocomandato. Questa, per esempio, è la catena di montaggio dei droni Wild Hornets ucraini, quelli da mandare al fronte. Questi piccoli droni trasportano le bombette calabre in genere. Si parla di 400 unità in un giorno, e molti di questi droni poi sono quelli che fanno man bassa della fanteria russa. Ora, so che molti di voi che mi seguite siete esperti di queste cose, quindi riconoscerete certamente i componenti. La mia esperienza è limitata, io sono più un esperto, diciamo, studioso di aviazione. Anche se nel 2012 mi autocostruì un esacottero per fare riprese aeree all'epoca. Quindi ne so poco di cose più moderne, diciamo. Ma a parte questo, so che questi oggetti sembrano apparentemente piccoli e minimali, ma a giudicare dai motori e dal carbonio in abbondanza, devono essere estremamente potenti e performanti. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Per concludere vi lascio invece con questo flyby di due Mi-24 ucraini bellissimi. La prima serie, fra l'altro, loro utilizzano ancora la prima serie di questo elicottero, che poi nel frattempo negli anni è stato aggiornato, ma comunque peccato che i soldati russi hanno l'abitudine di mettere musiche di sottofondo a questi video, quindi non posso farvi sentire l'audio. Però vi lascio il video in descrizione, sono pochi secondi ma da mettere a tutto volume. E con questo vi lascio, cari amici. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace. Qui sotto ci sono tutti i pulsanti di YouTube per sostenermi in questa iniziativa. E niente, un abbraccio, alla prossima!